Siamo venuti qui anche da Napoli per dire che non ce ne può più del filospinato dei confini chiusi, non ce ne può più di un'Europa che permette il transito delle merci e anzi si ingegna per trovare dei modi sempre più rapidi per farle passare ma non permette il passaggio dei uomini e delle donne. Non ce ne può più di un'Europa che finanzia uno Stato assassino e alleato con i terroristi. Noi veniamo da Napoli, conosciamo bene l'immigrazione, abbiamo conosciuto 150 anni di emigrazione, non ci interessano le distinzioni tra pofughi di guerra e i migranti cosiddetti economici. Siamo venuti a dire che i confini non significano un cazzo e noi lo ribadiamo con forza che quindi dei confini e ne non ce ne strafotte uno sfaccima di cazzo di netto. E adesso questi confini li superiamo, li abbattiamo, li distruttiamo insieme. Tappos!